Sono Gian Pietro Povolo, mi parlo da Cieleterra, S.P.A., un'azienda vinicola, imbottigliamo vino in provincia di Vicenza, facciamo parte del gruppo Colliberici, che è una zona vinicola ben nota qua in provincia di Vicenza. Mi hanno chiesto perché facciamo le fabbriche sostenibilità, siamo parte di questo percorso della Green Week di Italy Post. Da tanti anni lo facciamo, facciamo parte di questo progetto di comunicazione, ma di comunicazione di valori. Lo facciamo perché crediamo nella sostenibilità, crediamo da tanti anni nella sostenibilità, crediamo nel fatto di essere un'azienda, che è un'azienda che, by definition, è un'impresa sociale, che coinvolge più persone. È un'azienda che deve fare profitto, però il profitto lo fa anche facendo delle scelte che devono rispettare l'ambiente e rispettare le persone. Già da oltre 15 anni noi applichiamo il management, quindi la parte di miglioramento delle performance di produzione, comunque aziendale in generale, e i due principi lastri sono riduzione degli sprechi e rispetto per le persone. Riduzione degli sprechi, che poi vuol dire riduzione dell'impatto ambientale, miglioramento dell'efficienza, cercare di avere dei fondi di provisionamento più etiche e magari certificate con rispetto ambientale, a tra parte rispetto alle persone, sicurezza assolutamente di lavoro, solidità del posto rispetto nella gestione del personale e anche cura, diciamo, delle persone e della comunità. Solo quell'interno, ripeto, sono i lavoratori, che sono fornitori, tutti quelli che lavorano attorno all'azienda, ma anche le persone che magari possono essere in difficoltà per vari motivi all'esterno dell'azienda. Questo è il nostro motivo di esistere nell'ambito della sostenibilità e perché partecipiamo a questo evento.